Ad un passo dal coma etilico ha iniziato a lanciare lattine contro i treni in partenza dalla stazione di Campo San Piero. Un 26enne ganese è stato bloccato e controllato dalla polizia ferroviaria mentre a fatica si reggeva in piedi. Sottoposto all'alcol test, l'esito è stato a dir poco sorprendente. Il tasso era di 3,27, quasi 6 volte il limite dello 05 previsto dalla legge per chi si mette alla guida. A dare l'allarme era stato il macchinista del treno in transito nella stazione dell'Alta Padovana. Il 26enne con precedenti permolestie ai clienti di un bar della zona, poche ore prima del lancio di lattine, era stato fermato e controllato anche dalla polizia locale.